Parte oggi l'avvertenza sanità. L'Aquila aperta dalla deputata del PD Stefania Pezzopane, che in conferenza stampa con l'ex sindaco Massimo Cialente e altri esponenti del PD, ha denunciato le gravi carenze dell'ospedale San Salvatore. Si stanno bloccando le assunzioni, si vuole risparmiare sul core business, mancano addirittura i farmaci. Serve fare concorsi e assunzioni. L'ASL dell'Aquila non fa concorsi, non assume a tempo indeterminato, ma continua con il precariato, a differenza di altre ASL. Seconda cosa, bisogna immediatamente recuperare sulle forniture. Terzo obiettivo, riqualificare la struttura, anche dal punto di vista energetico, e rendere la struttura ospitale per le migliaia di donne e uomini che ci operano. Quindi promuovere gli organismi di consultazione. Usa parole molto forti Massimo Cialente, che definisce ormai l'ospedale regionale un ospedale da campo, ma non per le professionalità ormai stremate e demotivate, dice, per la gestione. Il fatto dei farmaci che mancano è un fatto poi gravissimo. Basta con i tagli. E sono sbagliati anche i criteri di finanziamento alla ASL. Impensabile fare un finanziamento ad personam, secondo Cialente. Capitolo Covid a parte. Per l'ex sindaco molte morti si sarebbero potuto evitare e spera che le indagini vadano avanti. I 100 posti letto Covid sono il ritorno dei posti nel blocco 6, ha detto pure. Non esistono più il reparto di malattie infettive, pneumologia o parte di medicina. Sono reparti Covid e la gente comincia ad andare fuori. Il nostro ospedale, che è altissimo in professionalità, è ridotto tipo un ospedale da campo. Cioè nel momento in cui questa mattina una paziente oncologica aveva l'appuntamento per fare la pette. Voi immaginate la preoccupazione di un paziente ballato. Te chiamano alle 8 perché manca il farmaco per fare la pette. Mancano i presidi per prendere una vena centrale. Mancano i farmaci, farmaci importanti come il cordarone. Mancano le sacche per la colostomia. Mancano i clistelli. Voi direte manca. Sì, un paziente operato che ne ha bisogno. Siamo a livello di un ospedale del campo. Per errori gravissimi della gestione che si fanno. Perché si stanno facendo tagli trasversali sugli acquisti, sul personale, senza mirare il core business. I fondi dell'articolo 20 per il PD vanno rimodulati. Pietruccia ha ricordato che per il Covid il Fondo Sanitario Regionale all'Aquila è stato minore perché l'ASL ha dimostrato di essere più virtuosa. Per fare raggiungere alle ASL l'equilibrio, insomma, hanno ripartito i soldi in maniera non giusta, secondo lui. Piccola abbordata a Marsilio, poi dalla Pezzopane. La Pezzopane dice che non li azzittirà. Deve parlare di sanità con atti e delibere in maniera seria. Le carte parlano per lei. L'Aquila è discriminata.